Noi non dobbiamo dire niente, questi sono giocatori che usano da solo quello che dobbiamo fare in campo, però è normale che dobbiamo stare un attimo più attenti perché i primi cinque minuti sinceramente quando abbiamo preso due palli abbiamo due grandissime parate del portiere e poi fanno un'azione, un catch-up-tango, una punizione, poi prendi gol e diventa tutto più difficile. Quindi massima concentrazione come del resto stanno facendo da parecchie partite. Abbiamo due o tre partite difficilissime perché giochiamo un'altra volta con l'Arobette, poi giochiamo con Futura Raid e poi abbiamo la Venere, quindi piedi per terra, cuore in campo e niente, tutto qua.